e bella a tutti ragazzi sono gamer joe e bentornati su un nuovo video di pokemon go avevamo il presentimento su un evento di natale e infatti neantic ha rilasciato la news ma non si tratta solamente di uno pensate un po bensì più eventi andiamo a vederli assieme allenatori sono qui sul sito ufficiale di pokemon go ho aperto questa news dal game però la news in game non dà molti dettagli anzi non dice nulla quindi come al solito io preferisco leggere le novità da qui perché sono più che complete andiamo a leggere un regalo per voi gli eventi pokemon go di dicembre allenatori mentre il 2019 è ormai agli sgoccioli il mondo di pokemon go non si ferma mai ride pokemon pokemon ombra pokemon leggenda o pokemon ombra leggendari nuovi oggetti per avatar c'è tantissimo da scoprire durante queste vacanze mettetevi comodi allenatori sarà un lungo elenco pieno di fantastici regali ebbene sì ragazzi preparatevi andiamo a leggere i titoli di queste news poi andiamo a profondire number one uno sviluppo complicato ricerca speciale team go rocket numero due diversi pokemon si schiuderanno dalle uova numero tre virizion arriva nei ride a cinque stelle quattro weekend di ride speciali con lugia e oh oh cinque feste invernali di pokemon go 2019 sei riscaldatevi con un evento speciale nel fine settimana quindi iniziamo con i dettagli del primo step della prima news e quindi uno sviluppo complicato attivate la nuova ricerca speciale uno sviluppo complicato durante il mese di dicembre per aiutare il professor willow e i capi squadra a sconfiggere questi criminali quindi questa ricerca speciale sarà incentrata sul team go rocket le caratteristiche uno sviluppo complicato una nuova ricerca speciale ideata per aiutarvi a sconfiggere il team go rocket è disponibile fino a fine dicembre sconfiggete giovanni il boss questo mese e avrete la possibilità di salvare zaptos ombra e in questo caso allenatori mi è venuto il dubbio perché qua la ricerca speciale la chiamano uno sviluppo complicato mentre se andiamo in game la ricerca diciamo del mese scorso in cui dava articuno e non zaptos si chiamava in un'altra maniera una ricerca oscura qualcosa del genere ragazzi che dava appunto articuno come ricompensa e non zaptos quindi non so se avendo ancora quella missione ci tira fuori articuno o zaptos in teoria visto che siamo già in dicembre dovrebbe darci zaptos proverò a terminarla il prima possibile e vediamo arriviamo quindi alla seconda news tutto strapazzato diversi pokemon si schiuderanno dalle uova una bella omelette ragazzi hanno un nuovo strapazzato che parte il 16 dicembre 2019 potrete ottenere diversi pokemon una volta schiuse le uova ma di che pokemon si tratta mettete le uova nell'incubatrice e camminate per scoprirlo non ci viene detto nulla ragazzi ma molto probabilmente saranno pokemon non lo so di tipo ghiaccio di tipo natalizio e infatti qua c'è una bella sorpresa ma prima vediamo il nuovo pokemon leggendario che entrerà in game virizion il pokemon prateria arriverà nei raid di livello 5 si dice che questo pokemon leggenda di tipo erba e di tipo lotta confonda i suoi avversari con movimenti rapidi quindi assicuratevi di avere pronte delle strategie di lotta prima di incontrarlo e noi non vediamo l'ora data e ora in cui arriverà nei raid dalle 22 di martedì 17 dicembre alle 22 di martedì 7 gennaio 2020 quindi ce lo portiamo fino all'anno prossimo ragazzi molto bene poi andiamo a vedere anche le caratteristiche di questo pokemon se ne conviene catturarne abbastanza per trovare il più alto possibile di percentuale iv sicuramente a vedere così ho il presentimento che non sarà come cobalion quindi è un buon pokemon leggendario arriviamo alla quarta news e cioè weekend di raid speciali con lugia e oh oh lugia e oh oh ritornano per un weekend di raid speciali lugia il pokemon di tipo psico e volante e oh oh il pokemon di tipo fuoco e volante saranno entrambi disponibili nei raid e qua ragazzi possiamo anche trovarli in forma shiny io spero di trovare tutti e due ce li ho già li avevo già registrati ma uno in più assolutamente non fa male e poi chissà magari di trovare un 98 100 per cento shiny sarebbe pazzesco data e ora che arriveranno in game dalle 22 di venerdì 20 dicembre alle 22 di lunedì 23 dicembre quindi il weekend del 20 al 23 dicembre possiamo incontrare questi fantastici pokemon della seconda generazione e attenzione sotto ci viene detto ricordate che anche virizion sarà disponibile nei raid 5 stelle durante questo periodo quindi quel weekend non è che viene stoppato e buttano fuori come livello 5 solamente lugia e oh oh ma potremmo beccare un raid anche con virizion e qua è un po' una pecca ragazzi perché se volevate concentrarvi sullo shiny non lo so volevate lugia shiny quindi uscivano solo quei raid qua è un po' una pecca perché ci sarà diciamo il 33 per cento per ognuno di uscire nei raid di livello 5 io non l'avrei messo virizion però vabbè speriamo ci spawnano diversi raid livello 5 di lugia e oh oh arriviamo alle feste invernali di pokemon go 2019 l'evento feste invernali di pokemon go è tornato scoprite i nuovi pokemon in costume bam pokemon di tipo ghiaccio mai visti prima in pokemon go eventi esclusivi di ricerca sul campo oggetti per avatar a tema invernale e una tormenta piena di bonus data e ora di queste feste invernali dalle 12 di martedì 24 dicembre alle 23 e 59 di mercoledì primo gennaio andiamo a vedere le caratteristiche di queste feste pokemon con costumi natalizi appariranno per la prima volta in pokemon go pikachu raichu e pichu con addosso dei berretti e stentler con delle campanelle ormai è di tradizione inserire pikachu e le sue evoluzioni con costumi cappelli e roba varia andiamo nella seconda pokemon selvatici che appariranno con più frequenza fantastici pokemon selvatici di tipo ghiaccio come snizzle delibirt snorunt e molti altri appariranno con più frequenza ottimo ragazzi qua allenatori veramente ottimo perché sono tutti almeno questi che ci hanno elencati sono tutti possibili shiny snizzle ne ho già delibirt lo sapete mi manca vorrei trovare delibirt in forma shiny snorunt ne ho solamente uno però maschio vorrei trovare il snorunt femmina shiny per fare la sua evoluzione in froslass così andrò anche aggiungerlo che è bellissimo in forma shiny siamo arrivati qua a fare il suo debutto in pokemon go sarà cube cho cube cho cube cho mi pare sia un pokemon dell'ottava generazione perché mi sembra di averlo visto in pokemon spada e scudo il pokemon freddo a non ci viene non ci viene detto neanche il tipo e il pokemon freddo probabilmente sarà di tipo ghiaccio passiamo oltre pokemon che appariranno dalle uova senstriu di alola vulpix di alola molto bello in forma shiny pichu con addosso dei berretti e stentler con delle campanelle saranno disponibili nelle uova da 7 chilometri arriviamo ai pokemon nei ride raichu con addosso dei berretti e stentler con delle campanelle saranno disponibili nei ride a due stelle solamente due stelle va bene così ragazzi meglio almeno potete anche affrontarli in solo non non si trova difficoltà con un ride di livello 2 per queste feste allenatori vedete c'è una marea di novità siamo arrivati pokemon attratti dal modulo esca glaciale attenzione anche qua perché per il modulo esca glaciale quello blu chiaramente c'è un'enorme novità e cioè lanciate un modulo esca glaciale su un pokestop nelle vicinanze e avrete la possibilità di incontrare cryogonal ammazza che nome ragazzi il pokemon cristallo al suo debutto in pokemon go vediamo anche questo pokemon se sarà all'altezza di entrare nelle nostre squadre eventi esclusivi di ricerca sul campo godetevi le speciali attività di ricerca che vi daranno l'opportunità di incontrare pokemon come pikachu con addosso un berretto pikachu vediamo se lo inseriranno col berretto in forma shiny come hanno sempre fatto io purtroppo ne ho trovati veramente pochi ragazzi in quegli eventi in cui buttavano pikachu con non lo so nell'evento halloween con il cappello dedicato ad halloween lo mettevano in forma shiny è molto bello molto bello e anche molto raro arriviamo ai pokemon ombra salvate i pokemon ombra abbiamo ragione di credere che il team go rocket abbia trasformato ancora più pokemon incluso delibirt bellissimo delibirt non si sa se lo mettono shiny in teoria no ragazzi vediamo stiamo a vedere in pokemon ombra potrebbero esserci ovunque altri pokemon ombra da scoprire quindi date inizio alla vostra avventura e salvateli ed ecco qui in grassetto il succo che ci interessa a tutti noi allenatori vediamo attenzione reggetevi bene perché parliamo di cromatici se siete fortunati potreste incontrare stentler cromatico con le campanelle e snowwear cromatico bello bello ragazzi la renna del game addirittura con le campanelle possiamo trovarla in forma shiny molto bella si presenta con questa colorazione stupenda secondo me che va a cambiare nettamente la forma normale in più con le campanelle potrebbe essere molto ma molto raro che infatti lo rilasciano stentler shiny con le campanelle solamente per questo evento poi in futuro rimarrà la forma shiny però toglieranno le campanelle quindi consiglio a tutti voi allenatori di uscire camminare e aprire tutti gli stentler che trovate magari mettete anche un aroma o un modulo esca normale per aprire e visualizzare più stentler possibili per questo evento delle festività natalizie perché è veramente raro potrebbe essere un'ottima merce di scambio se ne trovate più di uno perché no invece snowwear ci viene detto che solamente shiny solamente cromatico vedete che c'è una bella differenza e ragazzi arriviamo all'ultimo step oggetti per avatar a tema invernale arriveranno nel negozio ci viene detto scoprite il maglione o la fascia di stentler e lo stesso berretto indossato da alcuni pikachu per l'evento arriviamo al bonus prendete nota allenatori alcuni bonus cambieranno durante l'evento attenzione dalle 12 di martedì 24 dicembre 2019 alle 23 e 59 di mercoledì primo gennaio abbiamo quindi questi bonus doppi pacchi amicizia da aprire ogni giorno per la durata dell'evento il numero di pacchi amicizia che potrete aprire ogni giorno salirà a 40 ottimo ottimo ragazzi possiamo aprire il doppio dei pacchi io raccomando sempre se ne aprite tanti di mettere fortu nuovo perché fate sempre più punti esperienza almeno doppi pacchi amicizia da regalare quindi possiamo aprirne di più e inviarne di più per la durata dell'evento il numero di pacchi amicizia nel vostro inventario aumenterà a 20 ottimo arriviamo a parlare dell'incubatrice uova monouso garantita al giorno per rendere più semplice la schiusa delle uova durante le feste gli allenatori riceveranno un incubatrice uova monouso al giorno gratis girando il disco foto su un po su un pokestop durante l'evento bene ragazzi quindi praticamente avremo due incubatrici gratis non so se anche questa sarà arancione perfetto così almeno possiamo schiudere più uova e magari anche ricevere più shiny o più pokemon interessanti come ci avevano detto i bonus cambieranno durante questo evento e infatti arriviamo dalle 12 di martedì 24 dicembre alle 23 e 59 di mercoledì 25 dicembre caramelle da cattura raddoppiate caramelle per i trasferimenti raddoppiate qui si parla solo di caramelle per natale insomma poi dalle 12 di giovedì 26 dicembre alle 23 e 59 di venerdì 27 dicembre il doppio di polveri di stelle da cattura e arriviamo alle 12 di sabato 28 dicembre alle 23 e 59 di domenica 29 dicembre doppi dei punti esperienza da cattura e dalle 12 di lunedì 30 dicembre alle 23 e 59 di mercoledì primo gennaio quindi già l'anno prossimo distanza per la schiusa dimezzata se le uova si trovano nelle incubatrice uova durante questo periodo quindi prima che concluda questo evento il primo gennaio mettete le uova all'interno così almeno vi dimezzerà la distanza di schiusa arriviamo alla sesta novità che abbiamo visto prima la scaletta e cioè l'ultima riscaldatevi con un evento speciale nel fine settimana durante l'ultimo sabato di dicembre e del 2019 scoprite un nuovo speciale evento invernale di otto ore precisamente sarà sabato 28 dicembre dalle 11 alle 19 vediamo cosa in cosa consiste questo evento caratteristiche durata di due ore del modulo esca glaciale bene così almeno troviamo anche il nuovo pokemon infatti leggiamo per la durata dell'evento i moduli esca glaciale dureranno due ore durante questo periodo pokemon come lapras delibird e cube ciò ammazza sti noi pokemon hanno sempre dei nomi e altri saranno attratti dai moduli esca glaciale ottimo glaceon con ultima scelta attenzione allenatori mossa da community day che sarà tra poco e qui viene introdotta ancora una volta utilizzate il modulo esca glaciale per far evolvere ivi durante l'evento e otterrete un glaceon con l'attacco caricato ultima scelta vediamo poi regice regice allenatori che io con i regi non vorrei più vederli però ormai questo qua è di tipo ghiaccio quindi ritorna nei raid non siete riusciti a catturare un regice l'ultima volta che era disponibili nei raid e io niantic ne ho catturati tantissimi ero arrivato a 40 50 raid di questi cavolo di regi ma non mi ha dato lo shiny quindi ci terrei a trovare il regice shiny questo pokemon iceberg ultima novità due biglietti raid aggiuntivi ottenete due biglietti raid aggiuntivi durante l'evento girando girando il disco foto di una palestra i biglietti raid non saranno più disponibili al termine dell'evento e non potete avere più di un biglietto raid alla volta bellissimo ragazzi bellissimo mancano poche settimana alla fine del 2019 concludiamo l'anno in grande allenatori avanti cavoli allenatori che dire questo evento c'è guardate la news quanto cavolo è lunga abbiamo letto tutte le news che ci aspetteranno per questo fine 2019 lo sapevamo che non riesco più ecco siamo arrivati in alto questo qua è riepilogo quindi che abbiamo già visto a inizio video video del di questi eventi veramente pazzeschi fatemi sapere voi allenatori quale di questi sei passi di questi sei eventi aspettate di più non lo so magari volete un lughi appunto shiny le uova il nuovo leggendario virizion o i nuovi shiny come ad esempio snower o stentler e quindi che dire allenatori spero non vi ho annoiato troppo con tutte queste novità perché questo video durerà sicuramente tanto per oggi da gamer joe è veramente tutto ragazzi se siete contenti per gli eventi che stanno per iniziare in questo fine 2019 e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale gamer joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video ciao allenatori iscriviti al canale